Una lunga carriera, ormai si è arrivati a firmare addirittura 30 licenze il marchio Balestra. Anche più. Anche più. Dal punto di vista stilistico, gli anni 70 che cosa hanno significato? Hanno significato moltissimo per me, perché sono stati un po' l'affermazione del mio nome. Io ho cominciato, intanto studiavo ingegneria, per cui mi occupavo di musica, pianoforte eccetera, per cui ero in tutt'altra faccenda faccendato da adolescente. Poi è capitato che mi occupassi di moda e ho cominciato a lavorare come freelance designer per tutte le case più importanti che c'erano in quell'epoca. Poi ho aperto il mio atelier, ho fatto un po' anche di gavetta col mio atelier per affermarmi un attimo e poi sono cominciati i viaggi, è cominciata l'America, è cominciato l'Oriente, sono cominciati i viaggi internazionali e l'affermazione del nome che è successa proprio negli anni 70. Dal punto di vista stilistico che cosa hanno significato per la donna? Ma secondo me intanto ho una grossa ricerca, perché cercavo intanto un mio stile, una mia identità. Sono stati degli anni abbastanza di scoperte per me, perché dopo questi trapezzi, queste linee un po' rigide così che andavano in quegli anni, io ho cominciato a usare intanto tessuti morbidissimi che accarezzavano il corpo, si accappegnavano col corpo, qualcuno anche le prime trasparenze, le prime vedo e non vedo. E poi i ricami. I ricami per i quali sono diventato abbastanza conosciuto, poi i ricami perché intanto c'è una grossa ricerca nel ricamo perché non deve essere mai fino a se stesso tanto per mettere delle pietre o delle cose, un vestito, ma deve fare parte di un tema, di un motivo. E poi la ricerca anche di grandi e grandi mani, io le chiamo sempre le mani d'angelo perché probabilmente finite queste, se ce ne saranno altre che sappiano fare dei ricami così stupendi come alcuni artigiani. Ecco, a proposito di artigianato, di alto artigianato, c'è spazio anche per l'alta moda del 2000 per questo artigianato? Ma spazio c'è, bisogna vedere se c'è la pazienza per avere questo artigianato da parte degli artigiani. Io vedo che si parla tanto dei giovani, io vedo, incoraggio sempre molti giovani, faccio parte di un'accademia, addirittura sono professore onorario all'università di Pechino della moda, poi non so, tra Catanzaro, Palermo, ci sono diverse idee, diverse scuole di artigianato alle quali io do molte volte il mio apporto. I giovani hanno molto talento, ce ne sono molti che hanno molto talento, quello che manca a loro è la pazienza, cioè per imparare, soprattutto è difficile il mestiere della moda e dell'alta moda in particolare, bisogna raffinarsi e non c'è mai abbastanza tempo per raffinarsi perché ci si può raffinare finché si vive. Io dico sempre cercate di viaggiare anche se avete pochi soldi, tanto la gente viaggia lo stesso, io non so perché, ci si lamenta sempre che soldi non ci sono, invece gli aeroporti sono sempre pieni. Perché viaggiare apre molto la mentalità, apre molto la mente, si conoscono nuove culture, nuove civiltà, poi bisogna viaggiare anche sapendo viaggiare, cioè essendo curiosi, io dico sempre, cioè cercando di imparare l'arte dei vari paesi, le religioni, la cultura in generale. Gli anni 90 sono stati un po' segnati da un exploit del minimalismo che veniva dai paesi di oltreoceano, e in Europa poco, diciamo, attecchito, però adesso c'è una controtendenza. Per fortuna. Io sempre, adesso sono stato un acerrimo nemico del minimalismo. L'usamo, il bello è per chi può permetterci, ma anche per chi non può permetterci. Anche vedere belle cose credo che è molto più allettante che vedere delle miserie. Ecco, ma il 2000 dove sarà diretto? Ma il 2000 io spero appunto che superando il minimalismo, dice sempre perché avere un look povero e spendendo tanti soldi. Trovavo sempre un assurdo questo atteggiamento. Adesso c'è questo ritorno alle belle cose, non al lusso necessariamente, ma alle belle cose. Per cui io credo che andremo verso questo. Poi c'è anche da dire una cosa, la moda riflette un momento storico nel quale viviamo. Quello che noi indossiamo oggi tra cent'anni sarà costume, per cui è un'interpretazione di un certo momento storico. Per cui speriamo che il momento storico del 2000 sarà un momento più di pace, più di relax, più di gioia di vivere. E allora rifletterà anche la bellezza nel vestire. Se andremo verso catastrofi, no probabilmente, ma siamo ottimisti, pensiamo di andare verso a belle cose. Facendo un bilancio del ruolo di Roma nel settore della moda e dell'alta moda in particolare, quale sarà il suo ruolo e qual è stato? Ma il ruolo dell'alta moda è un ruolo molto molto preciso, è un ruolo di ricerca, è un ruolo di creatività che molte volte in altri campi non si può avere a pieno perché bisogna fare i conti con la produzione, con i costi. L'alta moda dovrebbe perlomeno essere assolutamente un'esercitazione creativa. Finché ci saranno talenti, finché ci sarà creazione e anche donne che potranno permettersi di vestire dei vestiti abbastanza costosi come sono quelli dell'alta moda, l'alta moda vivrà. Il ruolo di Roma sarà sempre prominente finché c'è l'alta moda. Noi abbiamo Milano che ha il pret-à-porter e tutte le linee del pret-à-porter. Roma ha l'esclusiva dell'alta moda. Io vedo che ho avuto la fortuna e anche l'onore di essere stato eletto presidente del comitato alta moda. Ci diamo molto da fare perché Roma risorga come l'espetta. Se dovesse usare due aggettivi per indicare i pregi e i difetti di Roma nel settore dell'alta moda? Allora, cominciamo con i difetti perché poi andiamo sui pregi. I difetti forse proprio di una certa disorganizzazione che c'è stata in un certo periodo di Roma alta moda, questo lo stiamo superando egregiamente. C'è più organizzazione, c'è più attenzione da parte dell'autorità, anche cittadine di Roma, per cui c'è questa collaborazione che sta già dando i suoi frutti. Per quanto riguarda i pregi, io posso dire una cosa soltanto, che ho detto molte volte ultimamente. Cioè, Roma ha dei talenti indiscutibili. Io credo che può benissimo stare alla pari di tante altre collezioni in altri posti, che siano italiani o che siano esteri. Bisogna dare lo spazio e l'entusiasmo a questi talenti per creare sempre meglio. E io credo che senz'altro l'alta moda avrà ancora lunga vita. Ok. Il suo connubio con il mondo dell'opera? Ma è un connubio che è nato prima come grande passione, perché la passione in generale è per la musica. Io mi ricordo che ancora ragazzino, alle mie prime armi con la tastiera, avevo scoperto, mi ricordo ancora come oggi, morte e trasfigurazione di Strauss. E da quel momento c'è stato amore a prima vista, a primo orecchio. Ho sempre coltivato la passione per la musica, sia a concerti, sia all'opera. Ho fatto dei costumi per una Turandotto, ho fatto per la Cinderella di Rossini, con grande successo. E cosa significa per uno stilista questa sfida del costume? Ma ogni volta è una sfida, qualsiasi cosa. Io ho scritto un libro, è stata una sfida. Ho fatto, non so, delle trasmissioni, è stata una sfida. Come si esce dal proprio seminato? È sempre una sfida. Se soltanto l'esperienza e la verifica può dare una certa, non dico sicurezza perché quella non c'è mai, per fortuna, anche perché nel momento che viene la sicurezza io penso che siamo finiti. Quindi il messaggio ai giovani stilisti è la sfida? Eh sì, certamente, ma la sfida anche per me con la prossima collezione è sempre una sfida. Bisogna sempre, una sfida perché? Perché bisogna sempre tentare di conquistare nuove mete e nuovi traguardi. Con l'apertura della stagione lirica del Teatro Verdi di Trieste, dove invece farò il Cavaliere della Rosa. Doppia sfida perché i costumi non rispecchieranno esattamente l'epoca di Hoffman Stahl che ha scritto il libretto e Strauss che ha scritto la musica, ma saranno dei costumi che devono essere un'interpretazione della fine del Settecento, cioè sarà una prova anche questa, un altro banco di prova, speriamo che abbia successo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.